Questa volta non è uno scappare davanti alle responsabilità ma una corsa ad assumersele in toto. Ci aveva messo la faccia Giovanni Stroppa dopo la pesante sconfitta del Foggia ad Avellino, ma ad assolverlo dalle responsabilità di aver sbagliato formazione e assetto tattico ci pensano i giocatori. Uno in particolare ha voluto metterci la faccia a qualche giorno di distanza dalla Caporetto Irpina. Antonio Vacca non gira attorno alla questione davanti a telecamere e cronisti. Il Ministero è quello che ha meno colpe. Quello che ha più colpe di tutti penso di essere io, ma non lo dico perché voglio proteggere il Ministero o qualche compagno. Lo dico perché lo penso veramente e sono abituato a dire sempre quello che penso. Mi scuso e parlo un po' a nome di tutta la squadra. Ci scusiamo per la prestazione di Avellino, non tanto per l'aspetto tecnico, tattico. Ci scusiamo per l'atteggiamento, per la mancata reazione, per la mancata determinazione. Chi indossa la maglia del Foggia non se lo può permettere. Un avvio di campionato così in salita non lo avrebbe immaginato nessuno, anche se, va detto, le tre gare giocate dal Foggia hanno caratteristiche differenti. La stessa sconfitta a Pescara, anche quella per 5 a 1, è stata letta in maniera diversa rispetto alla brutta figura di sabato scorso contro l'Avellino. Non ci sono scusanti, perché a Pescara sì, abbiamo preso 5 palloni, ma credo in modo più dignitoso. Abbiamo fatto tante azioni da gol e quindi ci poteva stare. Con Lentella credo che abbiamo fatto una grossa partita. Lentella è una squadra che gioca da anni in B. Anche gli undici titolari sono tutti giocatori che hanno sempre giocato in B. Quindi non credo che sia l'approccio alla categoria. Inevitabile che ci si voglia riscattare immediatamente, anche se sabato prossimo allo Zaccheria arriva il Palermo, che non è l'avversario adatto in questo momento dedicato. Il presidente del Foggia, Lucio Fares, ha ribadito la piena fiducia al tecnico Giovanni Stroppa. E anche Vacca, per silenziare le voci circolate in città, ha allontanato le ipotesi di una squadra che remi contro l'allenatore. La sfida contro il Palermo, insomma, diventa un banco di prova per dare sostanza a queste due correnti di pensiero.